In questa traccia andiamo invece a conoscere la voce italiana di attori come Zac Efron, Antoni Elkin e molti molti altri. Sto parlando di Flavio Aquilone. Ciao, grazie per l'introduzione. Grazie a te perché spero essere qui con noi. È un piacere. Flavio, tu sei un altro dei giovanissimi. Nonostante la tua giovanità, insomma, hai già molti anni di esperienza di doppiaggio alle spalle. Quando esattamente hai cominciato a doppiare? Allora, mi sono avvicinato al mondo del doppiaggio nel 94, quindi avevo quattro anni e mezzo. Eh sì, dai. Un bambino. Riccolinissimo, molto piccolino. Diciamo che l'inizio è stato un gioco. Mia madre è una dialoghista, è una direttrice di doppiaggio e quindi vedendo mia madre che stava adattando, facendo l'adattamento a dialoghi per un cartone animato, le ho chiesto informazioni sul lavoro. Sapevo già da tempo, insomma, in cosa consistesse il lavoro di mia madre, però ho pensato fosse divertente poter dare la voce a uno di quei personaggi e quindi le ho chiesto di farmi provare a fare così, per gioco, per vedere se potevo dare la voce a uno di quei personaggi. Quindi è iniziata come gioco, ecco. Sì, 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 all'inizio è stata una curiosità. Sì, sì, all'inizio è stata una curiosità.